In collegamento telefonico con il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano. Consigliere, come risponde all'assessore di Luccia in merito alla situazione della condotta sottomarina di Baia Arena a Doiastro Marina? Sendo il dovere di replicare la risposta dell'assessore all'ambiente ad una mia richiesta presentata pochi giorni fa per conoscere l'esistenza o meno delle autorizzazioni uniche ambientali per gli scarichi degli impianti di depurazione di Castellabate e della condotta sottomarina a Baia Arena. L'assessore nel rispondere ha detto almeno due inesattezze anche abbastanza gravi. Diciamo subito per sintetizzare e per far capire a tutti in maniera precisa che l'assessore dice gli scarichi degli impianti di depurazione di Castellabate confluiscono in una vasca e poi vengono immessi nella condotta. L'assessore dichiara che per immettere gli scarichi di impianti di depurazione in quella vasca e quello di cito non c'è bisogno di autorizzazione unica ambientale. E dice una cosa che non è vera. Perché? Perché l'autorità d'ambito seale e quindi non il sottoscritto già nel 2016 faceva presente al Comune che per poter scaricare le acque dell'impianto di depurazione di Castellabate in quella vasca che cita l'assessore c'era bisogno dell'autorizzazione unica ambientale. E quindi in questi due anni non c'è stata questa autorizzazione e quindi fondamentalmente non c'è stato neanche un controllo di queste acque perché se non c'è un'autorizzazione non c'è una certificazione degli scarichi. E poi la seconda inesattezza è quella inerente, la responsabilità del Comune di Castellabate circa l'autorizzazione finale degli scarichi nella condotta sottomarina. Beh, l'assessore dice che è compito del Comune di Montecolci. Non precise però, non fa sapere ai cittadini però, che il Comune di Castellabate per quella condotta, per il funzionamento di quella condotta e per lo scarico della condotta a mare, ha una percentuale di spese di gestione dell'88,24%, quindi diciamo che ha la quota maggioritaria nelle spese di gestione ed è alquanto paradossale che non sappia e non conosca e non si è conoscenza dell'esistenza delle autorizzazioni necessarie per far funzionare questo impianto. Quindi sono due inesattezze, sono due mancanze abbastanza rilevanti dal punto di vista ambientale e normativo e quindi bisogna stare più attenti su questi temi che rivessono un'importanza principale soprattutto per un Comune Costiero. Poi lasciatemi anche aprire un'altra parentesi e quella inerente alla risposta dell'assessore. La mia era una richiesta, non una polemica. Qui si concepisce sempre il nostro ruolo, che è un ruolo anche di controllo dell'azione amministrativa come una sorta di polemica. Era ed è una semplice richiesta per conoscere se esistono queste autorizzazioni. E' anche paradossale, fatemelo dire, che ogni volta che i consiglieri di minoranza presentano una richiesta, un'interrogazione o qualsiasi altro documento a domandare, a chiedere chiarimenti su determinati aspetti che riguardano il territorio, è paradossale che invece di rispondere con gli atti scritti, la maggioranza risponde con le interviste, risponde ai comunicati stampa, ma questi comunicati stampa e queste interviste poi non seguono nel termine perendorio di leggi di 30 giorni delle risposte scritte. E quindi mi aspetto, come mi aspetto ancora da tanti altri casi rimasti aperti ancora senza risposte di avere anche risposte scritte, ufficiali e non solo interviste o comunicati stampa.